Questa sciarpa è uno scialle ed è un bancale, da noi si chiama bancale. È un indumento tipico delle donne di un paese vicino a casa mia che si chiama Tiriolo. Viene fatto al telaio e quella di Penelope è sempre una figura che viene raccontata come chi sta lì a tessere una tela, ma quello è un atto di resistenza ed è un atto politico perché lei attraverso la tessitura di quella tela, attraverso l'utilizzo del telaio riesce a governare il suo popolo, riesce a governare il suo regno, a non farlo invadere dai proci che vogliono prendere il potere. Quindi quello è un atto di resistenza ed è un atto politico compiuto da una donna a cui dovremmo tutti quanti restituire la dignità che merita.